Oggi è l'anniversario della morte di Kurt Cobain, credo che lo sappiamo tutti perché siamo intasati un po' dagli elogi e dai tributi a questa persona, è doveroso perché è stato veramente un personaggio al di là dell'aspetto musicale, perché lui proprio al di là che è stato un tinaido, l'amato, mi fa ridere sta cosa, mi fa ridere perché lui ha sempre sofferto invece il sentirsi non desiderato, è proprio il rapporto con le donne che lo ha distrutto, che parte appunto da sua madre, quindi mi fa ridere questo fatto che Kurt Cobain sia il simbolo, comunque di un bellissimo ragazzo, il bello è dannato, ingestibile che si è innamorato di Cartney Love, che è veramente una donna sbagliata, per uno con le sue patologie, inoltre Kurt Cobain che tentò anche il suicidio giovanissimo senza riuscirci, ho fatto anche un podcast al riguardo, e praticamente fu proprio soffrendo tutta l'adolescenza, i suoi bisogni interiori non soddisfatti, poi provò a fare sesso con una ragazza che chiamavano diciamo ritardata perché aveva il sostegno, quindi insomma il rapporto con le donne di Kurt Cobain è sempre stato molto particolare, diciamola così, anche se si dovrebbe scrivere un romanzo sul suo rapporto con le donne, e diciamo che l'aspetto appunto emotivo, anaffettivo, sofferente, comunque di un personaggio come lui hanno portato un po' tutti noi ad avvicinarci a lui perché lui rappresenta esattamente quegli aspetti di noi che magari nella società non possiamo raccontare apertamente, e lui invece lo faceva, i Nirvana erano proprio emblema, simbolo, e come tutti i gruppi e tutti i grandi personaggi di quegli anni, erano influenzati da un grande gruppo, i Beatles, insomma con autori quali John Lennon e Paul McCartney, che hanno scritto canzoni meravigliose e toccanti, struggenti, canzoni importanti nel descrivere l'amore, il non amore, la mancanza, la sofferenza, come appunto, and I love her, e io la amo, quindi nel giorno della morte di Carcobain io voglio omaggiarlo, non con un suo brano, non con un suo testo, ma con una sua reinterpretazione, perché comunque certi cuori, certi interpreti, poi nel raccontare le emozioni degli altri, quando si sentono parte di quell'emozione che è anche la tua, lo fanno forse meglio addirittura degli originali, perché a me questa versione, pur essendo in home recording, parte del disco proprio di piccole pillole sue dentro casa, aveva questo registratore, Carcobain, riesce a farti capire perfettamente il concetto del brano, dandoti anche un'altra sfumatura, perché i Beatles erano comunque un gruppo pop, erano un gruppo che facevano delle canzoni magari bellissime, ma che comunque erano preparate per una moltitudine di pubblico immensa, quindi ok, non sto parlando di pezzi come Yesterday, che sono capolavori intramontabili, però una canzone come questa, forse ti può rendere il concetto ancora meglio, se è registrata da un Carcobain dentro casa, da solo, con un registratore, che la sta cantando solo per se stesso, e il testo dice, Lei mi dà tutto, è teneramente, il mio amore mi porta un bacio, e lei mi porta, ed io la amo. Un amore come il nostro non potrebbe mai morire, finché io ti avrò accanto a me. Brillanti sono le stelle che splendono il cielo escuro, so che questo mio amore non morirà mai, ed io la amo. Un amore come il nostro non potrebbe mai finire, finché io ti avrò accanto a me. Ora, un brano semplice, in pieno stile Beatles, una melodia bellissima, ciò che trasforma questa canzone nel pezzo, diciamo, singolo, quindi Out Nirvana di Carcobain, come il più cliccato, 20 milioni su Spotify per dire, per dirne una, è proprio questo discorso qua, il cuore che ci sta dietro, il discorso di empatia in lui, e sembra una ninna nanna questa canzone, non sembra una canzone che parli male dell'amore, anzi ne parla bene, quindi è nell'interpretazione che c'è tutto il suo mondo. Finché io ti avrò accanto a me, non potrebbe mai morire finché io, è questa la cosa, ma se tu te ne vai, io crollo. È per questo che sto ragazzo ha deciso di ammazzarsi, non perché la donna se n'è andata, ma per questo concetto base della sua interiorità, ovvero finché io. E quindi tutti i suoi problemi, le sue cicatrici, il suo senso dell'abbandono nei confronti della madre, lo ha letteralmente abbandonato e non riconosciuto a un certo punto, poiché è troppo problematico, e quindi c'è la dinamica dell'io ti genero problemi per vedere se mi ami, se mi accetti così come sono nel peggio. E allora nel momento in cui fai anche una figlia e le tue cicatrici vengono distrutte con tutta l'eroina e i problemi, allora a quel punto crollano le certezze e lui si è ammazzato perché dice io sto per divorziare, ma è un'altra famiglia sciolta, questa volta la mia, io non la posso rivivere. Una cosa così, non la posso vivere, ma ammazzo, punto, stop. In questa interpretazione c'è tutto, il mondo di Carcobain, la sua sfera emotiva, le motivazioni che l'hanno portato alla morte, che non sono motivazioni, ah perché l'hai fatto? No, le motivazioni emotive, il dolore, c'è tutto. E questa è una canzone di rassegnazione, questa interpretazione è così. Per questo dicevo la differenza tra i Beatles e lui, che i Beatles la cantano in un modo, ed è una piccola poesia semplice, un onore all'amore, un omaggio all'amore. Invece no, lui non la canta come omaggio all'amore, lo canta le stesse parole ma come una persona che l'ha perso. Quindi le stesse parole, nel momento in cui tu le vivi, brillanti sono le stelle che splendono, ma nel momento in cui lo hai perdi, lo perdi il cielo è scuro. Finché io ti avrò accanto a me. Fondamentale questo passaggio. Riposa in pace, Cart. Riposa in pace.